Ben trovati, ben trovati nella nuova puntata, la decima di verso una regione sostenibile, con noi c'è Massimo Canali, direttore della Direzione Centrale di Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile del Friuli Venezia Giulia. Ben trovato? Saluti, buongiorno a tutti. Allora, in queste puntate abbiamo approfondito in maniera molto specifica i temi ambientali. Possiamo dire che negli ultimi decenni forse erano stati un po' sottovalutati, messi da parte, che la nuova coscienza ambientale ha spinto anche alla possibilità di spiegarli e di illustrarli in modo più chiaro e nuovo ai cittadini. Sì, sicuramente la tematica è generale, non solo relativa alla nostra legione. Pensiamo che di ambiente si è iniziato a parlare alla fine degli anni Ottanta anche con l'istituzione del Ministero e come è cambiata la coscienza della società in questi anni, ma soprattutto l'evidenza ormai degli effetti anche significativi del cambiamento climatico con gli eventi estremi che continuano sempre a susseguirsi ha indotto tutti a meditare sulle opportune azioni da fare. Visto che siamo anche in periodo di legge di stabilità, se guardiamo gli investimenti della regione rispetto a dieci anni fa sulla tematica ambienti e energie, appunto sono di ben altre entità vista la sensibilità e le problematiche da affrontare. Ecco, si parla spesso di consumatore consapevole. Che cosa significa però nello specifico? Cioè chi si può ritenere, tra quelli per esempio a casa che ci stanno guardando, un consumatore veramente consapevole? Allora è uno sforzo che dobbiamo fare tutti e faccio l'esempio. Quando andiamo a fare qualsiasi tipo di acquisto sia al supermercato che agli elettrodomestici e quant'altro non dobbiamo pensare solo al momento dell'acquisto e quindi al miglior rapporto prezzo qualità ma anche ad esempio per gli elettrodomestici ai costi di gestione della bolletta ambientale che dovrò avere nei dieci anni successivi, al cibo che acquisto se lo userò tutto e bene nei tempi della scadenza. Questa consapevolezza contemporaneamente porta a un minore impatto ambientale della mia vita quotidiana che poi anche a un risvolto sul risparmio della mia spesa mensile familiare. Quindi non bisogna pensare solo a grandi scelte ma anche alle piccole scelte di ogni giorno dalla spesa a che tipo di frigo prendo, mi scusi se banalizzo. No esattamente, la spesa appunto dico cosa mi serve a me e i miei familiari nei prossimi sette giorni pensando che non poi non mi avanza o non spreco niente. Poi appunto è un po' anche forse sulle spese più grandi come l'automobile quanto tanto io penso sia quanto spendo, quanto consuma, quanto mi costerà il tagliando di manutenzione. Questo ragionamento deve essere fatto anche per tutti quei più piccoli elettrodomestici che hanno ad esempio un consumo energetico o di elettricità o di gas. Ecco, una delle puntate che ha riscosso il maggiore successo di questo ciclo legato appunto alla regione sostenibile è stata quella con gli operatori del settore quindi il settore chiaramente è quello della raccolta anche dei rifiuti. In alcune zone del Friuli Venezia Giulia però c'è ancora diciamo non totale consapevolezza su come gestire i rifiuti a livello domestico e su come poi anche conferirli e su come funziona poi il sistema di recupero dei rifiuti e da una parte di valorizzazione e dall'altra parte di riciclo. Certo, allora qui nell'attività di informazione, formazione che abbiamo messo in campo in questi mesi e sottolineo che in tutti i messaggi abbiamo sempre pubblicato il richiamo alle app che già sono messe in campo da tutte le società di gestione. Ovviamente non tutta la popolazione è abituata a usare le app ma ormai uno smartphone, faccio una battuta, ce l'hanno anche i miei genitori anziani di 86 anni ecco per cui il messaggio è tutto abbastanza chiaro. Utilizzate questi strumenti, il gestore della vostra area dove abitate vi darà tutte le risposte alle domande che abbiamo sentito adesso. Quanto può fare la differenza diciamo nell'economia, nella vita di una famiglia una corretta gestione dei rifiuti, quindi la differenziazione dei rifiuti è insomma il loro giusto conferimento. Sì, allora ripeto, la fatica di mettere tutte le cose al momento giusto, nel posto giusto come richiede ad esempio la differenziata spinta o altri tipi di situazioni o addirittura in alcuni comuni che ormai sono più di 40 della nostra regione è già in piedi la cosiddetta tariffa puntuale in cui viene anche pesato il rifiuto che uno produce deve portare a indurre il ragionamento a monte, quello che dicevo prima lo sforzo è ridurre la produzione del rifiuto e quindi il risparmio che può toccare con mano la famiglia è che questo sforzo porta a ridurre la quantità di acquisti che può essere superflua e quindi a monte a far risparmiare. Ecco, mi viene da dire pensando all'esperienza quotidiana che forse alcune pratiche virgolette antiche forse erano più sane per esempio, mi viene in mente quando si riportavano le bottiglie di vetro nei supermercati cosa che ho visto fare nuovamente per esempio nella vicina Croazia è che non è una pratica desueta ma forse una di quelle pratiche banali che magari può avere degli effetti. Certo, ovviamente il mondo è cambiato però appunto io ero ragazzino negli anni 70 e all'epoca la cosiddetta acqua minerale si prendeva solo nella bottiglia in vetro col vuoto a rendere ecco, ovviamente sono passati tanti anni però il concetto appunto è quello però in molti casi si sta diffondendo abbiamo anche incentivato il tema dei dispenser o delle casette dell'acqua o situazioni del genere in cui il contenitore non è più tra virgolette usa e getta casette dell'acqua che tra l'altro se non sbaglio hanno parecchio successo perché molti si riforniscono così evitando l'utilizzo di plastiche hanno parecchio successo appunto lo scopo principale è il tema della plastica ma anche la valorizzazione della cosiddetta acqua pubblica che dal punto di vista della garanzia sanitaria è sempre al massimo delle garanzie Ecco, si parla spesso di questi tempi di economia circolare cioè sostanzialmente un'economia in cui quello che un tempo era rifiuto punto diventi una risorsa che rientra diciamo così nel ciclo produttivo quindi come dire si tende a non sprecare potenzialmente poco o nulla Esattamente, proprio la differenza è questa l'economia lineare significa che un bene, un servizio inizia ha una sa vita e poi finisce e muore e quindi dove finiva la sua morte una volta o in una discarica o in un inceneritore invece da una retta dobbiamo passare a un cerchio l'esempio appunto è quello di alcuni tipi di bottiglie di materiale plastico delle acque minerali che una volta gettate vengono riprese, rifuse e riutilizzate per fare di nuovo la bottiglia e quindi quella materia plastica ha un cerchio continuo non ha più una retta con una fine che impatta sull'ambiente che sia il territorio o le emissioni in atmosfera Certo, l'importante è non gettarle quelle bottiglie altrove perché si fa un danno chiaro quando invece possono essere riplasmate da zero Dopo appunto se si gettano indiscriminatamente il danno è doppio perché poi sappiamo di tutti i problemi ai mecchi abbiamo soprattutto nel mare in cui le plastiche rimangono non per mesi ma per anni Certo, insomma vi siete posti comunque degli obiettivi importanti anche a livello di direzione regionale per seguire questa rotta, per portarla avanti abbiamo visto anche altri fronti per esempio sul fronte decisionale gli stanziamenti per esempio sul fotovoltaico che fanno parte comunque di questo ambito Sì, diciamo che poi la regione appunto in tema di sostenibilità si è dotata di una norma quadro appunto FV Green in materia di sviluppo sostenibile per centrare tutti gli obiettivi dell'ONU al 2030 e uno di questi è il cosiddetto Green Deal cioè arrivare a una società neutrale in materia di emissioni climalteranti che sarebbe previsto al 2050 mentre la nostra regione ha anticipato questo target al 2045 sembra un po' una fantascienza parlare del 2045 ma l'impegno per arrivare a quel target è veramente storico e quindi è questo l'orizzonte su cui bisogna lavorare Bene, insomma un obiettivo assolutamente ambizioso per il Friuli Venezia Giulia da questo punto di vista io ringrazio molto Massimo Canali direttore della direzione centrale Difesa, Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della regione Friuli Venezia Giulia grazie per essere stato con noi passo la parola invece a Laura Bucarella che approfondisce proprio questo argomento con l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocci Marro Fabio Scocci Marro, assessore regionale alla protezione dell'ambiente decima puntata di Verso una regione sostenibile al termine di questo viaggio, durato sei mesi qual è il bilancio che possiamo trarre, assessore? L'obiettivo che ci eravamo dati è quello di aumentare la sensibilità ambientale se ce ne fosse bisogno perché sì è vero che le giovani generazioni sono nate in una nuova consapevolezza di tutelare l'ambiente e ovviamente anche il settore dei rifiuti però la mia generazione, quelle dei capelli grigi o quelle un po' più giovani hanno percorso la loro vita ad oggi senza questa sensibilità oggi negli ultimi anni soprattutto c'è un'onda montante di sensibilità e quindi si vuole portare la consapevolezza nel campo di rifiuti in questo caso ma non solo, anche a tutto tondo nel campo dell'ambiente affinché tutti possano contribuire a far sì che la nostra regione, che è una regione molto bella lo scriveva Ippolito Nievo siamo un piccolo compendio dell'universo possa essere lasciata ai nostri figli e nipoti migliore di come l'abbiamo trovata Si parla spesso di economia circolare che è un obiettivo questo è indispensabile però affiancare una raccolta differenziata che sia efficace che consenta poi anche di trasformare quello che è il rifiuto in una materia prima Sì, la nostra regione è molto virtuosa e ha una percentuale di raccolta differenziata molto alta e scandali e scene come si vedono spesso in televisione in Italia e soprattutto all'estero ricordo che i più grandi inquinatori e produttori di rifiuti appunto abbandonati al mondo sono gli indiani, i cinesi e per quanta parte percentuale anche gli Stati Uniti dell'America per quanto riguarda l'inquinamento invece per quanto riguarda i rifiuti noi a parte delle zone così grigie in Italia devo dire che la nostra regione è molto virtuosa in alcune parti della regione abbiamo delle punte d'eccellenza con qualche criticità dovuta alla morfologia del territorio che è Trieste e soprattutto il fatto che abbiamo una popolazione anziana non può percorrere centinaia di metri con le bottiglie in mano quindi là bisognerà intervenire ulteriormente ma non è che nessuno ha la bacchetta magica Quanto può fare la differenza una corretta gestione di rifiuti già a casa e quindi qual è l'importanza poi anche dell'educazione in questo senso? Siamo qui per educare appunto che è una corretta educazione ambientale ma laddove vedo specialmente come ho detto prima fra i più giovani c'è questa consapevolezza di aiutare il territorio anche perché lo ricordo una corretta gestione dei rifiuti di ogni singolo cittadino va a riversarsi su quella che è la tassa dei rifiuti che oggi viene calcolata in base al costo totale quindi il fatto totale dei costi dei rifiuti viene divisa in quota parte per i singoli cittadini quindi uno di noi può portare un piccolo mattoncino a un progetto che vede la riduzione dei rifiuti con un obiettivo utopico di rifiuti zero ma comunque con un obiettivo raggiungibile con una diminuzione del prezzo della tariffa Un consumatore consapevole è un consumatore che rispetta l'ambiente? Certamente sì, come ho detto prima vedete qui a Trieste io spesso ricordo qual era la sensibilità ambientale 50 anni fa leggendo il piccolo vedete quello che succedeva 50 anni fa e proprio 50 anni fa avvenne a noi un attentato terroristico palestinese di settembre nero all'erodotto transalpino, all'assiote insomma e si levò per noi bambini una nuvola che sembrava quasi anatomica ma quello che è più curioso, che lo seppi dopo è che tutto l'olio esausto, tonnellate di olio esausto vennero gettate nella grotta dei Colombi che è una cavità vicino ai fogli di Basovizza che è una cosa inaudita per i tempi nostri cosa da galera, ma all'epoca era normale prendere rifiuti e buttarli sotto terra Oggi c'è una consapevolezza diversa, è vero obiettivo di questo mandato in particolare sul ciclo dei rifiuti, Assessore, qual è? Come ho detto, cercare di diminuire al massimo quello che è l'ultimo residuo, si chiama in gergo CSS e che poi va dato ai termobilizzatori, ai ceneritori, che dir si voglia che comunque per quanto siano di ultima generazione possono essere filtrati al massimo comunque non producono violette fuori dai cammini e quindi bisogna portare il riciclo al massimo e cercare la consapevolezza appunto che viviamo in un ambiente e come dico io, bisogna rispettare l'ambiente ma anche il fatto che da 200.000 anni la nostra specie è sulla pace della terra quindi, come mi piace dirlo è un ambientalismo dal volto umano che vede la presenza dell'uomo e quindi in questo senso bisogna che ognuno di noi faccia la propria parte per sopravvivere l'ambiente però al tempo stesso dobbiamo anche viverci Abbiamo visto nel corso di queste nove trasmissioni che hanno preceduto quella di oggi come quasi la totalità dei rifiuti gestiti in Friuli Venezia e Giure si è gestita proprio sul nostro territorio Allora possiamo fare un quadro con la consapevolezza però che una delle criticità principali come stava dicendo prima resta quella della chiusura del ciclo del secco residuo di materiale plastico che è una situazione sicuramente molto delicata quella della plastica Sì, l'ho anticipato un'altra domanda perché comunque ha un grosso problema di smaltimento la plastica, lo sappiamo tutti e quindi è auspicabile al massimo il suo riciclo ma non è solo la plastica un problema pensiamo anche all'amianto che per nostra fortuna stanno in esaurimento ma comunque ci sono ancora decine di migliaia di tetti nella nostra regione abbiamo monitorati con delle riprese aeree e quindi oggi un altro obiettivo è quello di smaltire un rifiuto che è altamente tossico e danoso per la salute come l'amianto e quindi in questo caso anche in questo caso vogliamo che il ciclo resti confinato nella nostra regione anche se le leggi nazionali non impediscono il transito e appunto lo smaltimento di rifiuti anche da altre regioni anche dall'estero come detto giustamente noi contiamo sul fatto di essere virtuosi di consumare e smaltire rifiuti in nostra regione anche perché diciamola tutta si è visto nelle cronache che molto spesso questo oggetto di appunto traffici non probabilmente legali da parte della malavita e quindi il fatto di gestirlo noi in una regione virtuosa e chiudere il ciclo della regione è comunque una garanzia non solo di ambiente ma anche di legalità ringraziamo l'assessore al regionale dell'ambiente Fabio Scocci Marro un ultimo forse messaggio che vuole dare ai nostri telespettatori proprio su questo tema beh noi con queste tre missioni vogliamo sensibilizzare tutta la popolazione specialmente la popolazione adulta ma c'è anche un grosso investimento nei confronti dei ragazzi dalle elementari anche dall'asilo fino all'università perché siano essi e lo sono già gli ambasciatori di queste tematiche ambientali siano loro gli insegnanti nei confronti dei adulti che siamo cresciuti senza avere questa consapevolezza che loro hanno già nel loro DNA grazie grazie appuntamento alle prossime alle prossime puntate e le nuove iniziative appunto dell'assessorato all'ambiente grazie